buongiorno e benvenuti da borsali strumenti musicali continuiamo il nostro viaggio dei prodotti della top pro con davide fabietti il massimo esperto di questi prodotti e abbiamo una nuova astronave dotata di antenna che è capace di volare nelle più grandi sfere perché pensate che è diciamo una di ai bluetooth e quindi che ci consente di collegare i nostri dispositivi mobili senza filo e collegarsi direttamente a un mixer davide raccontaci l'hai appena descritto è molto semplice abbiamo questa tastiera di pulsanti sul lato frontale che ci permette il controllo della device collegate in maniera bluetooth quindi dopo aver effettuato il pairing andiamo a gestirne quelle che possono essere il volume e la riproduzione delle varie tracce è molto comodo soprattutto in quel contesto dove ci serve collegare una sorgente bluetooth ma non abbiamo un lettore bluetooth o meglio non abbiamo un trasmettitore bluetooth quindi il classico mixer che abbiamo abbiamo comprato cinque anni fa ci piace come sonorità ci piace come lavora ma non ha il collegamento bluetooth dal telefonino mi collego alla bt str della top pro si collega facendo un banale pairing fino a distanza di circa 20 metri anche qui dipende dove lo posizioniamo e quanto inquinato l'ambiente punto di vista di radio frequenze e poi abbiamo un'uscita jack bilanciata e lo colleghiamo al mixer quindi smartphone assolutamente direi anche un prodotto innovativo io fino ad oggi è la prima che vedo quindi assolutamente un vanto a lato pro per aver pensato anche appunto a queste esigenze l'estetica prima in modo spiritovole pareggiorata un'astronave perché ha veramente questa estetica con l'antennina veramente veramente carina e bt str top pro ringraziamo naturalmente davide fabietti per averci aiutato nel presentare questo video sulla gamma top pro e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale youtube a condividere i nostri video parlare di noi vi aspettiamo qua da borsare strumenti musicali e rotonda torri a bologna e vi ricordiamo l'assistenza di top pro che è una cosa molto importante quattro anni di garanzia nei primi due anni viene sostituito l'apparecchio in caso di difetto e questo si chiama serietà grazie e a presto ciao